Devo dire che io vivo a Napoli ormai sono 20 anni, per questo mi sento di adozione napoletana perché sono più anni che vivo in Italia e che ho vissuto in Ucraina. Di conseguenza è una città che mi ha dato molto, mi ha cambiato molto. Penso che è una grande fortuna, una ricchezza di ritrovarsi in un posto così bello che poi, essendo d'origine russa, siamo un po' trattenuti, c'è un'anima un po' più ostile. E invece questa ironia, questo modo di ridere proprio in primi su se stessi è una cosa incredibile, è un dono che Napoli mi ha dato e devo dire che mi sento molto fortunata di vivere qua, mantenere comunque quelle che sono le mie radici russi e nel frattempo avere anche questa fortuna di sentirmi un po' napoletana, anche quella simpatia che ogni tanto formamente lo uso. Quindi il teatro per me è una costante. Poi nella mia vita a un certo punto si è presentata Chanel e è stato un regalo, perché un personaggio del genere per un'attrice è un regalo. È stato un incontro dove reciprocamente mi hanno regalato una stoffa molto bella che era appunto Chanel e io con questa stoffa ho costruito un vestito, quindi me la sono cucita addosso e gli ho dato tutto quello che credo di cui avesse bisogno. Ma hai interpretato qualche volta anche se stessa nel suo ruolo? Una sola volta. Una volta mi è bastato. A un certo punto ho perso il mio compagno, il compagno della mia vita, è un incidente d'auto insieme ad Annibale Ruccello, che è stato un grandissimo autore, drammaturgo. E Stefano Tosi era il mio compagno e insieme sono volati via in una sera di settembre. Per 25 anni non ho mai interpretato un testo di Annibale Ruccello, perché c'era sempre qualcosa che mi frenava all'ultimo momento. E mi hanno chiesto di fare uno spettacolo che ricordasse questa data. E allora ho deciso che era arrivato il momento di fare i conti con questa storia che mi era accaduta. E quindi ho rimesso in scena me stessa e loro due e ho creato questo spettacolo che si chiamava 25 rose dopo, da questo tempo e da questo luogo. L'unico modo per fare pace con loro è con... perché in realtà era come se mi fossi sentita tradita. Voi due siete andati da qualche parte e mi avete lasciato dall'altro lato. La scena era un triangolo sbilenco, perché mi sentivo e mi sento ancora parte di questo triangolo sbilenco, perché per me adesso loro due sono un'unica entità. E tutto questo per dire che ho dovuto mettere in scena un pezzo della mia vita, raccontando quella che era diventata la nostra storia per sempre. Questa cosa però lo dico con grande amore, perché mi è servito adesso a parlarne con grande leggerezza, col sorriso sulle labbra, perché è come se avessimo fatto pace tutti e tre.